sei a rischio lì 5 5 diglielo ma era fuori percorso stava ammazzando il giudice dici che gliela diamo buona 5 per tentativo di ammazza del giudice ma mettere quelli termici sotto che costano 5 euro alla decathlon dove li puoi comprare sotto c'è sotto quelli termici no vabbè meglio di no zona ammazza il giudice questa quasi ammazza il paolo prima e non gli da cazzarola e ma è perché lui è abituato con la sua la sua ha più coppia questa è più nervosa la tua è più morbida più coppia sotto invece questa qua è più brusca se non gli dai prima ti frega devi allungarla di più ha detto non spegnerla non spegnerla cazzarangia ma va a nascondersi a vedere così se cade non lo vede nessuno bravo va a finire che c'entra moto e macchina micchia ma che traffico e sono al fresco sono nella parte fresca oh no lui oh non ha ancora fatto un caffio dai devi puntare il giudice qua quando arrivi su se no non vale ti ho deconcentrato punta il giudice ti ho deconcentrato appena hai guardato il giudice basta rifa 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 devi puntare il giudice puntagli addosso puntagli addosso al Paolo puntagli addosso al Paolo cerca di oh va a battare anche di più no voleva prendere te quello ho fatto ancora prima di fare il dente oh il giudice punta il giudice è scappato oh è qua deve allungarlo è Ok Porca vacca Perché la fate saltare No Poi cerchi di saltare col dietro Invece devi andare su copiarla E fermarti e poi andare via Perché anche Leo La fa così La fa così Quella Ma hai per caso visto in giro uno col Montesa Rosso E allora ho perso pilota e moto Tutte e due Ce l'ha in mano il cifone la mia Non so dov'è Fin quando Fin quando finisce la benzina non lo vedo più L'importante è che non mi c'entra anche la macchina Perché non mi stupirei Oh Il Gargadella dov'è Con la mia moto Oh